Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora mi vedete con questo viso molto soddisfatto del mio lavoro è perché ho parlato praticamente per 10 minuti ma non avevo premuto rec avevo già recensito i primi due prodotti e ora devo ricominciare da capo quindi benvenuti in questo video recensione oggi recensione è un po' random, ho diversi prodotti di cui voglio parlare e uno credo che lo recensisco a parte perché è un pochino più particolare in questa prima tornata vedremo cose utili sempre a portata di mano che è comodo di cui avere una recensione giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti di cui vi sto per parlare mi raccomando se vuoi mi puoi supportare con un po' il licenso e iscrivendoti al mio canale quindi dopo i preamboli iniziamo subito avevo già recensito questa ma ecco qua il primo prodotto di oggi è una crema mani della vintage profumata alla pappa reale per pelli sensibili come vi stavo dicendo è un made in Italy allora è un prodotto pienissimo di glicerina che mi sta aiutando tantissimo in questo periodo freddo in cui la pelle delle mani specialmente che è quella più esposta oltre il viso agli agenti atmosferici e grazie a questa crema non ho le mani disidratate che è pieno di pelliccine che si screpolano, si spaccano anzi sono molto morbide in questo periodo idratate e riparate la sto utilizzando ovviamente all'occorrenza cioè quando ho bisogno di mettere un po' di crema prima di andare a dormire eccetera e poi il pomeriggio sto facendo un'azione d'urto nel senso dopo pranzo durante la pausa pomeridiana mi accomodo per vedere la televisione e metto un po' di crema metto i guantini e grazie a questi piccoli accorgimenti quest'anno ho le mani veramente molto morbide ne vado a tirare un altro pochino quindi ne riapprofitto per rispalmarla la crema è fatta in questo modo un po' giallognola ed è molto profumata mi piace molto il profumo che ha è delicato non persistente però piacevole da sentire non dà fastidio al naso anche se la metto prima di andare a dormire non mi rilascia quella brutta sensazione di cremina sotto al naso che potrebbe dar fastidio anzi come mi stavo dicendo ora non mi ricordo se l'ho detto ora l'ho detto prima comunque è una crema che mi sta piacendo tantissimo no facevo un commento su gli ml è una crema da 150 ml è una grandezza di confezione un pochino strana di solito le creme per le mani sono da 50-75 massimo 100 ml quindi una bella bottigliona formato famiglia che va bene per tutto l'anno mi piace poi l'ho pagata ve l'ho presa in offerta ma non avevo un costo eccessivo sotto forse 3 euro secondo prodotto di cui voglio parlare di cui abbiamo già parlato sono le mie salviette struccanti del periodo sono della Fria della linea Utility 64 salviette delicate struccanti 3 in 1 occhi viso labbra effetto idratante pelli normali con bisabololo e stratti di vite rossa anche questo made in Italy non testato sugli animali e stavo notando come con tutte le confezioni di salviette struccanti la confezione raccomanda di buttare sia il sacchetto esterno che le salviette interne di queste seconde potrei anche capire il sacchetto esterno no di buttarle nell'indifferenziata beh questa cosa mi fa salire il nervoso anche perché è palesemente plastica perché non la posso buttare nella plastica io da buona sorversiva la salviette la salviette la butto nell'indifferenziata ma io con il contenitore esterno è plastica punto e basta comunque sono delle salviette relativamente grandi vabbè io ho preso la confezione grande quindi ha il c'è ancora l'etichettina di plastica ha il tappino richiudibile quindi non si seccano ma in ogni caso la salvietta è bella grande molto morbida e molto ben impregnata strucca con grande facilità la base anche bella strong quindi considerate i correttori fondotinta anche la base sottofissante mi strucca gli smokey pesanti toglie benissimo il mascara anche senza prebagnare le ciglia e mi strucca ha un pochino di difficoltà con i rossetti un po' più strong quindi colori come il rosso l'arancio lì la vedo un attimo in difficoltà devo cioè dopo che ho fatto la prima passata per togliere il grosso mi mi lascia tutto l'alone rosso che devo ovviamente andare a ripassare a volte non succede per altri struccanti sì non succede con le salviette struccanti che hanno l'acqua micellare all'interno questa non ce l'ha e forse questa è la differenza comunque vabbè confezione famiglia anche qui 64 salviette per ora la usiamo in 2 barra 3 dura un bel po' ora un prodotto particolare mi è stato regalato da una mia amica a Natale e mi ho sentito parlare bene anzi benissimo anche dalla signorina Rottermeier Valentina allora è un prodotto dell'Allegro Natura preparati bioecologici e si chiama un butter di ciglia uno sguardo naturalmente favoroso con un butter di ciglia nutriente e rafforzante per ciglia forti e setoso olio ciglia ricino e mandorla bio allora è un preparato gli ingredienti sono ovviamente 4 in croce di cui il primo è l'olio di ricino e il secondo l'olio di mandorle e c'è un terzo che non so cosa sia sono 3 ingredienti allora il prodotto da 10 ml ha un semplice scovolone perché è bello grosso in questa maniera allora io all'inizio sbagliavo perché passavo il prodotto dalla radice alla punta e mi ritrovavo che mi colava mi andava un po' nell'occhio da un pochino di fastidio poi ho cercato di utilizzare il suo scovolino quindi applicandolo dalla base alla punta e poi passare uno scovolino pulito a dentini per togliere l'eccesso ma così pensavo ok non mi entra negli occhi non mi brucia mai è uno spreco allora ho provato nell'ultime 2-3 settimane sì più o meno invece di passarlo dalla base alla punta di andare a zigzare zigzare soltanto alla base delle mie ciglia di modo tale che le ciglia dove poi effettivamente crescono perché ti crescono dalla base avessero tutto il nutrimento riuscissero a prendere tutto il nutrimento per poi farle crescere in modo più forte più lungo più voluminoso e questa terza modalità di applicazione ha sia il vantaggio di avere il prodotto sulle ciglia che toglie lo svantaggio dei residui all'interno dell'occhio che ovviamente brucia che fa paura come ha ben detto Valentina ovviamente non vedi l'efficacia del prodotto nelle prime battute quindi due tre giorni ci va bene a stronzata devi avere un po' di pazienza devi riuscire a attendere il ciclo effettivo delle tue ciglia le ciglia come i capelli i peli hanno un ciclo di vita nascono crescono e muoiono le ciglia se non erro sono 4-5 settimane nell'ultimo periodo io ho visto un netto miglioramento delle mie ciglia sono molto più lunghe voluminose alla base ma perché credo che ne stiano lasciando anche altre ed è ovviamente molto più facile poi mettere il mascara avere un bel effetto anche con un mascara da pochi pochi soldi avere un bel effetto sono contentissima che mi è stato regalato lo adoro letteralmente adoro se avete modo di provarlo la mia amica mi sembra che l'ha acquistato su Eco Verde non so se si trova in giro ma credo di sì poi Eco Verde è un sito molto bazzicato un e-commerce molto bazzicato ripeto ve lo consiglio è favoroso e altro prodotto che vi consiglio è questo prodotto della G-Cube si chiama della linea detox è un trattamento detossinante per la cute allora preparatore cutaneo pre-shampoo ad azione igienizzante e purificante favorisce l'eliminazione delle tossine e riattiva il microcircolo utilizzare sul cuoio capelluto massaggiando delicatamente lasciare agire per qualche minuto procedere con lo shampoo un prodotto da 150 ml si apre così girando entra dentro la confezione e se ne mette un po' sulla mano e va massaggiato sulla cute a cute asciutta si lascia agire come ha detto la confezione si sciacqua via e si procede con lo shampoo allora la prima volta che l'ho utilizzato l'ho utilizzato su capello già bagnato e ho pensato ok ho comprato una ciofeca poi ho pensato proviamo a utilizzarlo a cute secca quindi senza bagnare i capelli la svolta io lo utilizzo quando ho proprio i capelli sporchi 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 considerate non lo so partita della domenica lunedì non scendo quindi non vi faccio lo shampoo martedì allenamento mercoledì allenamento e giovedì vado a fare lo shampoo cioè veramente ho i capelli che sono unti dalla radice alle punte cioè il nutrimento della radice è arrivato fino alle punte io utilizzo questo prodotto lo lascio a giro è il tempo di fare uno scrub al corpo anche soltanto con il guantino sciacquo via tutto metto una noce di shampoo in questo momento sto utilizzando quello di bottega verde vi lascio giù la recensione quella la camomita di bottega verde e non ho bisogno della seconda passata che per me è un miracolo io perché ho bisogno della seconda passata anche se i miei capelli sono sporchi di poco quindi hanno bisogno soltanto di essere rinfrescati in casi invece in cui sono veramente terrificanti questo lascio agire shampoo semplice anche quelli di frequenza di shampoo alta frequenza che si utilizzano più volte a settimana io ho i capelli puliti mi sono resa conto qualche settimana fa che l'avevo lasciato un pochettino troppo agire quindi mi sentivo quasi non voglio dire bruciare però sentivo l'esigenza di dover risciacquare il prodotto dal capello perché ovviamente credo che abbia degli acidi o qualcosa del genere perché non ha non ha granulini non è un detox meccanico quindi come se fosse uno scrub ma credo che abbia proprio degli acidi all'interno leggerissimi ma comunque acidi e quindi ho capito che non devo esagerare il lastro di tempo in cui il prodotto sta sui capelli io direi non più di 3 minuti già 5 sono troppi di 2-3 minuti sì oltre no e quale beneficio oltre a evitare una seconda passata di shampoo sto vedendo i capelli molto quando lo shampoo dopo che ho utilizzato questo prodotto molto più vivi vivaci lucidi splendenti credo che siano anche cresciuti più rapidamente da quando sto utilizzando questo prodotto perché ovviamente voi considerate il cuoio capelluto come come la pelle se io ho uno strato di passatemi il termine sporcizia il capello non riesce bene a uscire e nasce un po' storto già debole perché deve già andare a bucare la pelle che ha uno strato di sporcizia sopra che sono cellule morte eccetera fortunatamente io non soffro di di forfora quindi ve lo dico su un cuoio capelluto relativamente normale qua un po' grasso ma normale un normale tendente al grasso non ho mai sofferto di forfora meno questo brufoli quante ne vuoi ma forfora manca solo la forfora e mi sta piacendo molto di questa linea qua leggo fase 0 quindi suppongo che ci sia questo è il pre shampoo credo che ci sia lo shampoo il balsamo eventualmente anche la maschera non ho controllato ma credo di sì perché mi scrive fase 0 ok e comunque top io all'inizio ero scusate ero alla ricerca di uno scrub quindi meccanico per sempre eliminare il sebo in eccesso per poter far crescere i miei capelli più liberi ma anche questo qua mi ottimo acquisto mi è piaciuto tantissimo buono ultimo prodotto è un prodotto della Sien è il Filming Eye Care to dry skin fragrance free in italiano crema Sien crema con tornocchi alla rosa canina contiene un pregiato essenziale semi di rosa canina all'agricoltura biologica controllata è stata studiata appositamente per soddisfare le esigenze della delicata zona perioculare per rivitalizzarne l'aspetto ok è un prodotto da 15 ml ovviamente distribuito da Lidl perché si è in un marchio Lidl la confezione è questa io sono arrivata più o meno qua lo vedo in controluce mi piace molto è una crema leggera ma idratante soddisfa pieno le mie esigenze del momento ho comunque 35 anni non ho una palpe cadente ho soltanto bisogno di una buona idratazione in questa zona che mi aiuti ad avere ovviamente tutta la zona idratata così non si vanno a segnare ancora di più le rughette già esistenti questa è la crema è molto leggera la utilizzo diciamo in un quantitativo normale per il giorno e la sera se per esempio sono andata in palestra oppure ho preso freddo nella passeggiata abbondo un pochino di più specialmente in questa zona per riprendere l'idratazione durante la notte ovviamente la mia pelle assorbe l'idratazione e la mattina mi trovo con un contorno occhi molto disteso e molto rilassato non ha un profumo eccessivo mi piace veramente tanto si sente però l'odore di rosa se non mi piace il profumo di rosa non è un prodotto che vi consiglio però a me piace un sacco il profumo di rosa l'ho utilizzato anche sul mio compagno una sera stavamo vedendo The Irishman venuto a casa e io visto che il programma e il film dura tantissimo a un certo punto mi sono fatta la mia skin care mentre stavamo guardando il film e ne ha voluto approfittare anche lui e gli è piaciuto anche per un uomo non è sgradevole il profumo alla rosa canina ok video dei prodotti recensiti di questo periodo finisce qua io ti ricordo come sempre se vuoi mi puoi supportare con un pollice in su e iscrivendoti a questo canale per non perdere i prossimi video io nel frattempo ti ringrazio per avermi aperta e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ragazzi in gamba in gamba ciao a tutti i prossimi video ciao a tutti i prossimi video